Ma vede, allora, ogni cosa ci verrà in mente qualcosa, quindi la necessità potremmo avvolgerle tutte, potremmo avvolgerle tutte le ciclone, siccome per etica dovremmo anche andarle a levare, siccome per etica dovremmo anche andarle a levare, siccome per etica adesso cerchiamo di segnare tutti i punti, perché se dopo non ce li ricordiamo. Vabbè, hai fatto a tuo vizio una mappa di dove stanno queste fasciature? No, però ce li ho a mente, non preoccuparti, tutto registrato. Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.